Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato Oreo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono biscotti Oreo, latte condensato, panna fresca per dolci. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Versare la panna che abbiamo messo per 45 minuti in congelatore. Chiudere con il coperchio senza il misurino e senza impostare il tempo azioniamo i bimbi a velocità 3,5 fino a quando la panna non sarà montata. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere il latte condensato ed amalgamare bene. Aggiungere i biscotti ed amalgamare. Riporre in congelatore per almeno 6 ore prima di servire. Gelato Oreo! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!